Sì, è stata una partita dove il Pescara sapevamo che poteva metterci in difficoltà sul palleggio perché hanno giocatori di grande qualità, una squadra che è davanti a attaccanti forti e che fino ad oggi non ha mai perso fuori casa. Quindi abbiamo cercato di contrastarli il più possibile senza snaturarci più di tanto e abbiamo rischiato poco, siamo stati bravi nell'occasione del primo gol e siamo stati altrettanto bravi nel secondo tempo a chiuderci. Loro hanno provato ad attaccare e di conseguenza attaccando in tanti uomini i rischi di subire ripartenze come abbiamo fatto nell'occasione del secondo e del terzo gol. Quindi è stata una partita dove il Pescara ha tenuto il palleggio del gioco, il Pescara a livello di palleggio è stato superiore a noi, noi siamo stati alla fine superiori non solo nel risultato ma a livello di conclusioni. Faccio comunque i complimenti al Pescara che è venuto qua a giocarsi la partita e a non snaturarsi e hanno fatto comunque un'ottima gara. Stellone, questa sera si sono affrontate al Barbera le prime due della classifica, il Palermo in testa secondo pronostico, il Pescara un po' meno secondo lei, lei che tra l'altro a Pescara è di casa, questa squadra potrà recitare un ruolo di primo piano? Parlo del Pescara ovviamente fino al termine della stagione. Ma io penso che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo perché hanno giocatori di qualità, hanno un ottimo allenatore che ha già ottenuto grandi risultati nella sua carriera, ha vinto campionati, la società è una società seria, sana e penso che il Pescara si giochi fino alla fine la possibilità di arrivare in Serie A. Chiudiamo con una battuta con un sorriso perché deve andare via il tecnico Stellone, come si vive a Pescara? A Pescara si sta bene, si sta bene. Un'ultimissima battuta, è stato vicino in passato, in un passato molto recente ad arrivare sulla panchina del Pescara, si era fatto il suo nome lo scorso anno e anche due anni fa? No, ma... Sì o no? No, no, dico sì, l'anno scorso tante squadre prima di arrivare a Palermo mi avevano cercato, io ho avuto poi la possibilità di andare a Palermo e sono felicissimo della scelta che ho fatto. Il Pescara è un ottimo allenatore adesso, io sono a Palermo e darò il massimo per il Palermo. Non si sa mai, magari tra un po' di anni, ben volentieri.